Eccomi di buon mattino su Via dei Tribunali, l'asse del Decumano Maggiore, che una volta però si chiamava Via del Sole e della Luna, per il fatto che congiungeva i templi di Diana e di Apollo. Oggi sull'area sorge invece la cattedrale Angioina con le sue pareti di tufo. E questa piazzetta, Sessoriario Sforza, si chiamava nell'antichità dei Raggi del Sole, probabilmente proprio perché avveniva questo straordinario fenomeno che il Sole, incontrando le pareti di tufo, trasfigurava tutto d'oro. E ancora si vede il fenomeno perché il riflesso tinge poi d'oro anche la cupola d'argento della Cappella di San Gennaro, dove in vetta vediamo le due ampolline in marmo che raffigurano le ampolline di vetro del suo sangue. Potremmo dire lo spirito chiama, il popolo acclama, ma poi è la Chiesa che conferma. In questo caso conferma la santità di San Gennaro che però si è aggiornato. Qui vediamo quest'opera effimera lasciata da Rocks in the Box al secolo Rosario Abosso che attindo con i suoi colori già i quartieri spagnoli e se vi trovate a Piazzetta Monte Oliveto che è graziosissimo quello che ha fatto intorno agli olivi messi poi lì da padre Michele. Qui abbiamo questa rappresentazione, a parte che San Gennaro legge il 24 ore, quindi si tiene aggiornato e dice fate presto lavoro, turismo, cultura e quant'altro. Ma la presenza di Caravaggio ci ricorda che questa piazzetta per quanto piccola ha una densità storica straordinaria perché lì è conservata l'opera delle sette opere di misericordia, l'opera pittorica del Caravaggio con il tema delle sette opere di misericordia è questo che è il palazzo della congregazione, dell'associazione di nobili uomini che fondano appunto il Pio Monte della Misericordia sul modello delle associazioni pensate da San Ghetano per raccogliere fondi per aiutare, aiutano ancora con questi soldi, con questo denaro, le necessità dei bisognosi, che è un palazzo veramente prestigioso, tra l'altro oltre a Caravaggio ci sono i grandi pittori del ciclo d'oro napoletano e c'è una pinaconeca interessante da vedere. Su tutto governa lo sguardo assorto e un po' severo del San Gennaro sulla sua guia intorno alla quale roterono festosi gli angioletti che ne portano i segni e noi ci facciamo accogliere dalla sua benedizione per iniziare questa giornata. Venite a Napoli perché essere napoletano è meraviglioso ma anche passeggiare per Napoli è meraviglioso, certo un po' di narrazione ci vuole, eventualmente vi fa piacere il mio modo di raccontarvela, contattatemi, lo faccio volentieri.